fa tipo caldissimo ecco il video delle proposte nel quale elenco tutte le richieste che mi sono arrivate e di queste otto principali voi ne potrete votare quattro scrivendo nei commenti quella che preferite e appunto le prime quattro che riceveranno più voti saranno spiegate nei prossimi tutorial ma prima però vi devo dire che per quanto riguarda gli speciali ho intenzione di fare uno unico e abbastanza lungo per i 500 iscritti lo so che sembra un traguardo un po' presuntuoso però penso che prima o poi ci si arriverà è un video che sto preparando da tempo è una roba abbastanza lunga proprio perché si va nel dettaglio di una storia però se avete proposte scrivete pure nei commenti magari mi fate cambiare idea aggiungo però una scommessa nel caso dovessi raggiungere i 500 iscritti nel giro di 30 giorni ho intenzione di pubblicare un video che ho già caricato su youtube ma che non ho pubblicato per motivi miei personali in particolare me ne vergogne si tratta di un video girato in sala prove nella quale sono andato recentemente da solo per registrare dei miei brani e oltre ai miei brani ho anche fatto delle cover che sono venite un po' diciamo che fa ridere quindi dato che per raggiungere un determinato traguardo bisogna in un certo senso pagare una penitenza io sono disposto a mettere in pubblico e mondo visione questa cosa questo video di cui mi vergogno per chi non l'avesse ancora capito in questo video io provo a cantare ma passiamo ora alle proposte vado in ordine dal più recente al più vecchio su tutte abbiamo roma bangkok di baby k giusy ferrari che in questo momento al primo posto su itunes c'è già un tutorial di questa canzone ma non è fatto benissimo nel senso che le note della melodia sono un po' sbagliate quindi se volete lo possiamo vedere insieme in molti mi hanno chiesto anche intro di jx e si può fare perché comunque alla fine di cantato c'è solo il ritornello e c'è la strofa che è un arpeggio col piano che possiamo vedere mi hanno anche chiesto sei di mattina di briga che è un artista che non ammiro particolarmente però le canzoni non sono neanche male quindi si può anche fare è arrivata una richiesta di una canzone che non conosco non conoscevo che è mad world di gary jules spero si lega così poi alla fine del video ve le elenco tutte comunque poi abbiamo lo stadio di tiziano ferro poi abbiamo un'altra canzone che non conosco che talking body di top low o l o non lo so poi abbiamo una canzone che per questa playlist che faccio potremmo definire vecchia perché wake me up di amici però comunque la canzone bella si può fare e infine l'amore altrove di francesco renga con alessandro amoroso queste sono le principali ne sono arrivate anche altre che però ho escluso a priori per questioni di coerenza con la playlist a questa aggiungere altre due proposte mia che potrei fare in aggiunta al video settimanale del lunedì e sono l'in on di major laser con dj snake che non è dj snack che se no sarebbe dj merenda e senza fare sul serio di malika yam che è un artista che non mi è mai piaciuta particolarmente però questa canzone dopo essermela sentita parecchio l'ho imparata subito perché mi piaceva assai quindi voi votate quella che vi piace di più scrivendo nei commenti titolo e artista e le prime quattro che riceveranno più voti saranno affrontate nei prossimi tutorial ve le elencherò tutte a fine video prima vi aggiungo ancora che di qui a breve usciranno delle cover accompagnate appunto dal tutorial e degli inediti tra cui uno che è una canzone vecchia che però ho fatto il video adesso è un video un po' diverso un po' alternativo e uscirà questo giovedì e infine vi invito a guardare questi due video dove ci sono appunto due basi karaoke che ho fatto recentemente una è my queen dei colors e l'altra è fuori c'è il sole di lorenzo fragola ci vediamo nei prossimi video